Scuole di Como a rischio chiusura, duro attacco della minoranza di Palazzo Cernezzi con una nota ai consiglieri comunali Alessandro Falangano e Coll'Italia, Elena Negretti della Lega e Giordano Molteni del gruppo Misto lanciano l'allarme sulla possibile chiusura della scuola dell'infanzia di Ponte Chiasso e invitano i cittadini all'assemblea pubblica che si svolgerà il 18 settembre. La voce è stata confermata dagli operatori del settore. Il sindaco vuole chiudere la scuola dell'infanzia di Ponte Chiasso, si legge nella nota dei consiglieri comunali. I genitori, unitamente ad alcuni consiglieri, si riuniranno in assemblea pubblica lunedì 18 settembre alle 20.30 nell'istituto scolastico di Via Brogeda per ribadire l'importanza delle strutture scolastiche dei quartieri di periferia. La loro presenza e la continuità scolastica sono fondamentali e il rischio è quello di creare quartieri dormitori. Infine, la nota conclude, vogliamo ricordare al sindaco che l'impovorimento scolastico si manifesta soprattutto attraverso le esternalizzazioni che spaventano gli utenti. La scuola è il primo avamposto per l'aggregazione e lo sviluppo dei quartieri, specialmente per quelli di periferia e di frontiera. Più volte nei mesi scorsi l'amministrazione Comasca aveva annunciato la volontà di chiudere una sola scuola per l'anno scolastico 2024-2025. La Giunta da tempo ha messo sotto esame capienza consumi e lavori di manutenzione nelle scuole cittadine per arrivare a definire l'elenco degli istituti che rischiano di essere tagliati.